Una gara sulla carta agevole, ma non certo da sottovalutare. Al Franco-Ossola, contro un Varese già retrocesso e con l'organico ridotto all'osso per squalifiche ed infortuni, il Delfino Pescara è chiamato alla conquista dei tre punti senza se e senza ma. Un successo in terra lombarda servirebbe infatti per mettere una serie ipoteca sul piazzamento play-off alla vigilia degli ultimi 90 minuti di campionato che vedranno Fiorillo e compagni affrontare all'Adriatico venerdì 22 maggio alle 20.30 il Livorno. Se arriverà il successo sabato prossimo e se qualche risultato dovesse risultare favorevole alla squadra di Marco Baroni contro i Labroni ci potrebbe poi bastare anche il pareggio. Intanto sarà però fondamentale vincere contro i Biancorossi che qualche settimana fa fermarono sul pareggio Lavellino. In Casa Bianca Azzura nessuno si illude di poter fare una passeggiata all'ossola, ma è altrettanto vero che sulla carta la differenza di valori appare enorme, così come le differenti motivazioni tra una formazione già in vacanza ed un'altra alla ricerca di un piazzamento play-off che rappresentava alla vigilia del torneo il vero obiettivo da raggiungere. Un traguardo alla portata per la squadra di Marco Baroni che negli ultimi giorni, dopo aver tenuto la bocca chiusa per una stagione intera, ha esternato tutto il suo malumore per le critiche, alcune ingenerose, arrivate sulla testa dei suoi ragazzi, ma soprattutto nei suoi confronti. Critiche probabilmente esagerate, considerando che nelle ultime sette stagioni il Pescara del tecnico toscano è stato secondo per punti conquistati solo a quello stellare di Zdenek Zeman, numeri che non possono essere certo interpretati nonostante il gioco a tratti deludente della squadra. Per la sfida di dopodomani Baroni riavrà a disposizione Barto Salamon e probabilmente tornerà a riproporre il 4-3-1-2 con Politano alle spalle della coppia Melchiorri-Pettinari. Ancora fuori per infortunio Marco Sansovini.